Per un cattolico è più importante la conoscenza della Bibbia o del Catechismo? Di Corrado Nierre Per un cattolico è più importante la Bibbia o il Catechismo? Ovviamente sono importanti entrambi, ma c'è un ma che va precisato in questi tempi di estrema confusione, che lo facciamo molto brevemente. Ciò che è decisivo per un cattolico non è la Bibbia, ma la conoscenza del Catechismo, ovviamente secondo le possibilità e i talenti che ognuno possiede. Non a caso nelle parrocchie i bambini che devono accedere alla prima comunione si è sempre segnato il Catechismo. Non ci sono mica fatti corsi di Sacra Scrittura, che poi nell'ambito del Catechismo si segnano anche i fatti più importanti della storia sacra. Questo è un altro discorso. D'altronde quel grande ed insostituibile Catechismo, che è il Catechismo di San Pio X, ha proprio un appendice con la narrazione dei fatti più importanti della Bibbia, che poi i corsi catechistici nelle nostre parrocchie lasciano molto a desiderare. Questo è un altro discorso ancora. Corsi lunghi, per non dire lunghissimi, dove, se si permetta la battuta, si insegna tutto, anche come cambiare i pneumatici dell'auto, ma non l'essenziale, la dottrina cattolica. Già, la parola dottrina, questa dimenticata, una volta si diceva così, mio figlio questo pomeriggio è andato alla dottrina, per dire appunto, mio figlio questo pomeriggio è andato al Catechismo. La dottrina non è un optional, è il fondamento di tutto. Senza dottrina non c'è fede e non c'è nemmeno pastorale. Ovviamente, se la dottrina si ferma a se stessa, non serve a nulla. Il demonio conosce benissimo la dottrina cattolica, tant'è che la combatte perché sa bene quanto sia pericolosa, ma non gli è servito e non gli serve, né gli serverà a nulla. Occorre infatti che la conoscenza si completi nell'amore. È però in dubbio che la conoscenza, logicamente, anche se non sempre cronologicamente, viene prima dell'amore, non si può amare ciò che non si conosce. È per questo che i sentieri vanno percorsi contemporaneamente e in una successione logica. Primo sentiero, la verità va conosciuta. Secondo sentiero, la bontà va amata. Terzo sentiero, la bellezza va gustata.